E' stato l'artista Enzo Cucchi, maestro della storia dell'arte italiana, di inaugurare il nuovo anno accademico dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila e lo ha fatto a modo suo dialogando con gli studenti. Cucchi è uno degli artisti più prolifici e innovativi della scena contemporanea a punto di riferimento per la giovane generazione artistica. Lei che consiglio si sente di dare ai giovani che vogliono approcciare a questa carriera? Ne ha qualcuno? No, è il contrario. È proprio quello di non dargli consigli. Sì, c'è gente che non vuole occuparsi d'arte, l'importante è che si ritengono fortunati già, no? Poi spero proprio che non ascoltano nessun tipo di consiglio da parte degli adulti. I consigli adulti sono obsoleti. L'Accademia delle Belle Arti si conferma sempre più eccellenza, si avvicina verso i 500 iscritti con sempre più novità e investimenti in attrezzature e apparecchiature, come il braccio robotico utile per l'esecuzione di grandi opere in pietre e altri materiali, fondamentale anche la sinergia con altri enti e associazioni. Questa è direi che la fase veramente nuova, vera, di questa nostra Accademia che sta crescendo, si sta consolidando verso i 500 iscritti, siamo a 4,70 e soprattutto il numero delle matricole viene confermato in 160, un numero proporzionalmente molto rilevante. Abbiamo programmato con il Presidente un piano di acquisto di attrezzature tecnologiche di altissimo livello che daranno maggiore spessore tecnico alla nostra Accademia, oltre a fare tantissime iniziative che ci caratterizzeranno nel corso di quest'anno accademico. Faremo molta, moltissima ricerca.